Sono ben 35 i nuovi casi di positività al covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Salgono così complessivamente a 3.967 le persone in cui è stata fornita una diagnosi da coronavirus dall'inizio dell'emergenza. I 35 casi appena registrati hanno un'età compresa tra 1 e 75 anni. Resta invece fermo a 472 il numero dei deceduti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.954 dimessi guariti, più 7 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 2.940 che sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 541, più 28 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti in Abruzzo complessivamente 172.308 test. 36 pazienti, più uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedali in terapia non intensiva. 4, più uno rispetto a ieri, in terapia intensiva. Mentre gli altri 501, più 27 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 549 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 22 rispetto a ieri. 934 in provincia di Chieti, più 2, 1725 in provincia di Pescara, più 7, 728 in provincia di Teramo, più 5, 30 fuori regione, meno uno e poi uno invariato per cui è in corso la verifica sulla provenienza. L'assessorato regionale della sanità fa sapere che tutti i casi della provincia dell'Aquila sono riferiti a tracciamenti di focolai o casi singoli già noti. Facendo un resoconto delle variazioni rispetto a venerdì scorso, nell'ultima settimana si sono registrati 114 casi nuovi di positività al Covid-19 a fronte di 44 di messi guariti, non si sono registrati decessi, in aumento i ricoveri in terapia intensiva, più 3, quelli non in terapia intensiva, più 4, le persone in isolamento, più 63 e gli attualmente positivi, più 70. Dei 114 nuovi casi di positività settimanali, più 68 in provincia dell'Aquila, più 21 in provincia di Pescara, più 14 in provincia di Chieti, più 13 in provincia di Teramo, meno uno i casi fuori regione, meno uno i casi per cui sono in corso le verifiche sulla provenienza.